Mi presento, mi chiamo Marco Grusovin, ma mi conoscono tutti col soprannome di Zio Billy. Sono un istruttore di kitesurf da diversi anni ormai e chi ha fatto lezioni con me sa che amo più insegnare che praticare. Purtroppo in questi giorni non riesco a lavorare perché subissato da richieste di diversi programmi televisivi di cronaca che si occupano nello specifico del caso Grillo. Rileggere sulle testate dei giornali le confidenze che ce l'hanno fatti io e questa persona della quale nutro una grande stima come persona e anche come kiter davvero brava e ho avuto modo in questi due anni anche di affezionarmi quindi nutro anche affetto ma ha fatto male, l'ho vissuta io come una violenza. Sono una persona estremamente sensibile e questa vicenda qua mi ha toccato nel profondo e molto da vicino, in tutti i sensi. Ho deciso di usare Facebook perché almeno qui sono io il regista e sono io l'autore. mi è stato proposto in questi giorni, mi state continuando a proporre ospitate in tv per chiarire per soldi, fama, lanciare messaggi, non mi va tutto questo e ho deciso di fare questo video così è tutto gratis.